La firma parallela è una firma indipendente. Consiste nell'inserire nella medesima busta criptografica una ulteriore firma accanto alla prima. Alla busta sarà aggiunta una nuova impronta criptata del documento e il certificato elettronico del nuovo sottoscrittore. Il file manterrà l'estensione P7M. È possibile apporre una firma parallela a un file seguendo due modalità, selezionando e trascinando il file da firmare sopra il pulsante Verifica della barra degli strumenti ArubaKey oppure trascinando il medesimo file sopra il pulsante Firma e rilasciandolo sopra il pulsante Firma multipla. In entrambi i casi si accede alla schermata di verifica documenti da cui cliccare sul pulsante Aggiungi firma. Attendi il recupero delle informazioni relative al certificato contenuto nella Smart Card. Dalla schermata che appare, seleziona, mediante l'apposito menu a tendina, il certificato per la firma digitale in formato nome e cognome. Inserisci il PIN di protezione della Smart Card. Dal campo Salva come verifica che il percorso utilizzato per salvare il file firmato sia quello desiderato, altrimenti, dal pulsante Indicato, selezionane uno nuovo. Puoi scegliere se cifrare o meno il documento al termine della firma. Ti basterà abilitare il checkbox indicato. La cifratura di un file consente la protezione del file stesso, trasformandolo in un documento non immediatamente leggibile. Una volta cifrato, il file può essere aperto esclusivamente con chiave pubblica, anche in caso di successiva scadenza del certificato, e può essere visualizzato e decifrato dal destinatario indicato in fase di cifratura stessa. Dall'apposito menu a tendina, seleziona il tipo di firma Busta criptografica P7M CADES. Procedi al passaggio successivo. Mediante il pulsante Apri documento, verifica il contenuto del documento. Poi dichiara di aver preso visione del documento e di essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta. Clicca su Next per procedere con la firma del documento. Attendi qualche istante. Al termine dell'operazione si visualizza la seguente schermata, che notifica la corretta firma del file e da cui è possibile, cliccando sul nome del file, verificare la validità legale del certificato. Infine, clicca su Finish per chiudere la schermata. Il documento firmato viene salvato nella cartella indicata in fase di firma. Trascinando il file sul pulsante Verifica è possibile visionare la presenza della firma parallela.